Eccomi di nuovo, scusate che la telecamera ha fatto un scherzetto, ha smesso di registrare e quindi ho fatto una cosa che a me non mi piace fare, a me mi piace fare tutti i video di seguito senza fare tagli e quindi se sbaglio, se dico qualche cazzatina, qualche minchiatina almeno diventa più naturale perché è come se parlassi con un amico, con un'amica, con un paziente e voglio che sia il più naturale possibile. Vi stavo dicendo che l'ultimo passaggio che lo trovo super importante per curare questa acne tardiva è l'utilizzo dei fermenti lattici e vi stavo dicendo, non so se adesso quando ho fatto il taglio va bene, vi stavo dicendo che questo della Solgar è ottimo, il Bioflor, perché contiene due tipi di fermenti lattici, contiene altri fermenti lattici ma specialmente due tipi di fermenti lattici che l'Atovacillus acidophilus e l'Atovacillus ramosus o qualcosa, non mi ricordo esattamente come si dice in latino e non lo sto leggendo adesso, che sono specifici per la cura della pelle, per il miglioramento delle malattie della pelle come sono l'acne, la dermatite atopica, la dermatite seborreica, calzoriasi eccetera. Quindi nel periodo in cui avete la reazione, l'eruzione, lo sfogo da acne tardivo, potete prendere questo integratore, questi fermenti lattici. Tutto quello che vi ho raccontato è una cura che si può utilizzare anche nei ragazzi che soffrono di acne negli adolescenti, perfettamente si può fare, è la stessa cura. Ma so che adesso a quelli che siete più adulti, che oltre 35 anni vi è venuto l'acne dovuto alla mascherina, non sapete cosa fare. E l'ultima cosa molto importante, la mascherina va cambiata frequentemente. Mi sorprende vedere a persone che portano delle mascherine completamente sporche e soprattutto le mascherine in tessuto. Quelle chirurgiche monouso, forse le utilizzate un giorno, due giorni, cambiatele perché sono sintesi, che essi riempiono di sporco e soprattutto quelli che utilizzate le mascherine in tessuto, lavatele frequentemente, ok? Perché altrimenti c'è tutto lo sporco della mascherina che con quei pori dilatati va a sporcare totalmente i pori e quindi a favorire tutte queste reazioni di dermatite intorno alla bocca. Io con questo era tutto quello che mi è venuto in mente di raccontarvi, quello che racconto ai miei pazienti che stanno soffrendo di questa malattia, di questo disagio, di questa problematica nella pelle e lo volevo condividere con voi. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, come sempre vi dico qua lo potete scrivere anche qualche chiarimento. Sicuramente avete qualche prodotto che a voi vi è andato benissimo e lo volete condividere, non solamente con me, se no con tutti quelli che siete iscritti a questo canale. Se ti è piaciuto, se vi è piaciuto il video, fatemi un like, se no fatemi un rom, ma spiegatemi perché non vi è piaciuto. E sapete che mi trovate anche su Instagram, su Facebook, mi trovate anche sul mio sito web, quindi io piano piano a tutte le vostre domande, a tutti i vostri chiarimenti cerco di rispondere, ma siete in tanti. Questa comunità sono molto felice, sta crescendo, non per avere più follower, se no perché mi piace condividere con voi quello che io ho imparato nella vita sulle skin care, sulla cura della pelle. Mi piace condividerlo e mi piace farvi fare le cose correttamente come si dovrebbero fare in cosmetica. Quindi qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento, qualsiasi commento condividetelo che così impariamo tutti e vi rispondo piano piano, ma vi rispondo. Avete pazienza che tra video, Instagram, Facebook e tutta la mia attività in clinica a volte mi diventa difficile e anche tutto quello che è il digital, che a volte tutte queste cose fanno degli scherzetti e non mi rendo conto che ci sono i commenti. Vi saluto, vi auguro una bellissima giornata, un bellissimo fine della giornata, qualsiasi sia il momento in cui state guardando questo video, vi saluto, grazie di avermi ascoltato e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!